Si allarga il gruppo comunale di Forza Italia a Pesaro con l'ingresso del consigliere Antonio Bartolomei che proprio questa mattina aveva denunciato il problema della sicurezza al Parco Miralfiore, battaglia che ora porterà avanti potendo contare dunque anche sull'appoggio del partito di centrodestra. Qui abbiamo assistito in consiglio comunale a una presentazione in ordine del giorno da parte del centrosinistra dove sembrava che noi ci inventassimo questo problema di sicurezza. Purtroppo il problema di sicurezza esiste, io sono anche nato a Roma quindi conosco bene il problema della sicurezza nelle zone buie della città, quindi parliamo della stazione del Parco Miralfiore, abbiamo assistito anche a delle violenze negli ultimi giorni per cui il problema della sicurezza esiste ed è un problema che va risolto tramite degli strumenti che possono essere telecamere di sicurezza o presidi comunque delle forze dell'ordine piantonati diciamo nelle zone non sicure. L'ingresso di Bartolomei rende Forza Italia il terzo partito per numero di consiglieri nel comune di Pesaro ed il secondo per il centrodestra, numeri che aumentano non solo sul territorio ma anche in regione visto l'ingresso da Pesaro di Giovanni Dall'Asta. Non dimentichiamo che anche in regione praticamente siamo cresciuti di più del doppio quindi in tutte le amministrazioni Forza Italia sta aumentando il numero dei rappresentanti, abbiamo eletto uno anche in provincia stiamo lavorando, è chiaro che è un treno in corsa quindi è molto faticosa questa avventura perché comunque ci sono molte persone, molti amministratori che vogliono avere contatti, che vogliono avere informazioni che vorrebbero anche in qualche modo entrare, abbiamo molti giovani che sono interessati adesso inizieremo un percorso come ho già detto prima di creazione di eventi, di convegni sui temi caldi della città perché è giusto che i cittadini vengono coinvolti, vengono informati e ci sia il dibattito. Ma la mia è stata una scelta di coerenza rispetto alle mie idee perché sono sempre stato vicino al partito ho sempre fatto miei valori di Forza Italia, i valori berlusconiani della libertà, sono sempre stato un liberale quindi mi è sembrato giusto anche fare questo step successivo pur rispettando comunque la civicità come diceva prima la coordinatrice provinciale Foschi, far parte di una lista civica sicuramente come esperienza a livello amministrativo mi ha servito ad accumulare appunto quell'esperienza però adesso è arrivato il momento di fare un salto in avanti.